buongiorno nella sezione cultura di oggi volevo presentare un libro che ho trovato molto interessante molto illuminante sulla storia del femminismo un libro che è uscito da poco si intitola radiografia del femminismo storia idee e protagoniste della sovversione progressista è uscito per le edizioni passaggio al bosco ed è in vendita da poco più di un mese e mezzo è stato edito nel marzo di quest'anno quindi è un libro che si trova facilmente vania russo la studiosa scrive una storia del femminismo che parte dalle origini ottocentesche o addirittura fine settecentesche percorre tutto l'ottocento e arriva fino ai nostri giorni fino al novecento e quindi affronta argomenti importanti come la cosiddetta identità di genere come la il cambiamento dei ruoli fra maschio e femmina la svalutazione dell'uomo la cosiddetta lotta al patriarcato l'aborto naturalmente l'aborto è un tema molto importante il cosiddetto diritto insomma no all'aborto con un particolare occhio all'italia quindi il libro radiografia del femminismo tocca anche figure del femminismo recente come non so per esempio Emma Bonino e altre e altri o Adele Faccio radicale che era la nipote peraltro di Sibilla Ale Ramo scrittrice poetessa intellettuale che ha avuto un grosso influsso sul femminismo italiano agli inizi del secolo è un libro sicuramente originale ben scritto pieno di approfondimenti con una solida base di note e di bibliografia per cui si può andare a controllare tutto quello che l'autrice dice scrive e argomenta è un libro anche che nasce in ambito cattolico quindi ha anche questa impostazione importante quindi affronta non soltanto la storia del femminismo dal punto di vista sociologico storico, culturale ma anche dal punto di vista morale e con un occhio ovviamente al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa. Mi permetto quindi di non solo di segnalarlo ma di consigliarlo caldamente anche perché probabilmente non sentirete parlare facilmente in televisione, in televisione vanno i libri o vengono pubblicizzati i libri del femminismo cosiddetto mainstream che possiamo definire mainstream, questo è un libro controcorrente però è un libro importante, un libro solido, è un libro utile. Quindi radiografia del femminismo storia idee protagoniste della sovversione progressista autrice Vania Russo. Grazie